22 risultati utili di fila sono quelli ottenuti dall'audace Cerignola tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Un cammino che procede senza brusche frenate dal 10 ottobre 2021, data del K.O. Casalingo contro il team Altamura. Nell'ultimo acuto, il 2-1 alla Gravina, c'è stata la prima firma in giallo-blu di Nicola Strambelli. Sicuramente mi fa piacere vedere la gente allo stadio e speriamo che anche la prossima ce ne siano anche di più perché abbiamo bisogno di loro e dobbiamo arrivare all'obiettivo tutti insieme. Il successo sul Gravina vale la vette in solitaria, più tre sul bitonto, fermato domenica scorsa in casa dal Nola. Per l'esperto difensore Alex Sirri, con 13 giornate di campionato da giocare e 39 punti a disposizione, non si possono fare calcoli. Mancano ancora tante partite e potenzialmente se il bitonto vince tutte le partite vince il campionato, quindi non è così facile, non è così scontato come sembra. È ovvio che trovarsi adesso a più tre fa comodo, però dobbiamo volare bassi. Resta sullo sfondo lo spirito di un gruppo capace di stringere i denti e portare a casa l'obiettivo. Lo si è visto nelle ultime due apparizioni casalinghe contro il Casarano prima e il Gravina poi. La squadra sa soffrire, non si abbatte mai e quindi poi quando vinci una partita come questa contro un avversario del genere fa sempre piacere. Curiosità, il duello per la vette è con il bitonto proprio l'ex squadra di Sirri che ricorda così l'esperienza in nero verde. Venivo da un periodo abbastanza difficile perché mi ero rotto il crociato posteriore e ero ripartito diciamo dalla serie D col bitonto e a gennaio ho avuto un altro infortunio sempre allo stesso ginocchio dove mi sono rotto il menisco esterno. Abbiamo provato a parlare di rinnovo così ma non c'era la volontà credo d'ambo le parti di continuare il percorso. Il 9 marzo c'è intanto in calendario anche la gara di Coppa contro il Gladiator valida per gli ottavi di finale. Prima però ci sono il Bisceglie in trasferta e la Casertana in casa. Step by step è il motto in casa audace. Ovviamente il Bisceglie si deve togliere da una situazione che tutti sappiamo che ci darà sicuramente del filo da torcere e noi dobbiamo essere bravi e concentrati come stiamo facendo e come domenica.